Emozione palpabile, sguardi, truci e sorrisi tiratissimi. Si sono svolte oggi nel salone delle conferenze dell'Eurotel di Via Colombo le operazioni di peso per i protagonisti del grande match di domani sera al Palanguissola. Alle 20 e 30 infatti Paolo Lazzari va all'assalto del titolo vacante di campione italiano dei Pesivelter. A contendere il successo al Piacentino un altro grande picchiatore come Antonio Moscatiello, impossibile azzardare pronostici. Finalmente, siamo arrivati qua. Oggi è il primo incontro che è il peso, ci mancano 5 minuti alla pesata, ci siamo quasi. Ti vediamo piuttosto tranquillo. Sì, sono tranquillo, ho un po' tirato ovviamente, 66 kg per me sono abbastanza dure farli però con l'allenamento, l'impegno, i miei allenatori, preparatori atletici e tutto il team che mi ha seguito andiamo abbastanza bene. Siamo arrivati all'impegno diciamo abbastanza adeguati. Senti di giocarti molto anche dal punto di vista della tua carriera futura? No, non me lo sento perché io sono arrivato a questo obiettivo con la consapevolezza di fare il pugile, di fare il professionista per tirarmi via un sassolino dalla scarpa. Siamo arrivati a fare il titolo italiano grazie anche a Giordano Mosconi che nel 2009 mi chiamò e mi disse che vedeva buone prospettive in me. C'è un po' di emozione anche in lei quest'oggi? È logica, quando ci sono questi titoli importanti c'è sempre un po' di emozione però appena attraversi l'accordo del ring passa tutto. Alberti, la grande vigilia, quali sono le sensazioni? Guarda, siamo tranquilli, siamo soddisfatti di essere arrivati a questo punto perché effettivamente Paolo è caricatissimo, è già in peso quindi è pronto proprio per fare un grande match, è un grande evento per Piacenza, per tutti noi che ci dovrà ripagare di tutti i sacrifici che abbiamo fatto. Che match possiamo aspettarci? Sicuramente un bel match battagliero perché anche anni fa ci eravamo incontrati da dilettante e mi ricordo che tutto il palazzetto si era alzato per applaudirci che abbiamo fatto un bel match da combattente, un bel match di fiamme diciamo.